ciao ragazze ciao bambini benvenuti in un nuovo video sbabam è arrivato un nuovo pacco da mostrarvi con due novità uscite in edicola quindi inizio subito perché ce ne sono veramente tante tante ho solo aperto la scatola per velocizzare il video e sono super curiosa ragazze perché mi sembra di tornare bambina perché bene sì sono usciti i puffi mamma mia poi questi qua proprio questa immagine qua è proprio quella del cartone l'originale che davano negli anni 90 io veramente quando l'ho visto non ho capito più niente ho detto no vabbè sono usciti i puffi ragazze come sempre insieme danno la rivistina quindi trovate appunto un puffo in 3d la base perché sono appunto da collezionare quindi sono troppo felice perché c'è appunto la base per tenerli in piedi quindi si possono mettere nella camaretta dei vostri bambini o se siete voi bambini nella vostra camaretta oppure anche gli adulti perché no perché io li collezionerei tranquillamente sono sincera direttamente dal loro villaggio i puffi mestieri sono 14 splendidi puffi in 3d qua ci sono tutti i puffi disponibili da collezionare e sono puffi mestieri perché possiamo trovare il puffo pittore il puffo giardiniere pasticcere quindi tutti i mestieri appunto più svariati quindi direi di iniziare subito ringrazio sbabam come sempre per questa collaborazione sono curiosissima di vedere come si presentano c'è il libricino con all'interno appunto sempre la collezione dei puffi e c'è appunto vi dice che puffo avete trovato quindi puffo giardiniere in questo caso e c'è anche una storiella vediamo un po' wow sono super grandi ragazze vediamo insieme bello pesante come piacciono a me a me piacciono tantissimo perché anche come vi avevo già detto anche per gli altri pupazzetti che ho fatto vedere nel video precedente se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra i pupazzetti che trovate in edicola di sbabam mi piacciono tanto perché sono pesanti quindi belli robusti proprio bellissimi da collezionare non è la classica plasticaccia sono proprio belli 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 ma proprio belli non so se ho detto belli per caso è troppo carino puffo giardiniere io questi qua li metto tutti in cameretta Federico li faccio fare la collezione perché sono troppo belli ci sono appunto i due la base con i due cerchietti due pallini e vi basta andarle a incastrare nei piedini e così siete sicuri appunto che sta in piedi poi andiamo avanti ragazze perché ce ne sono un sacco altra bustina questa volta non mi faccio ingannare non guardo il giornaletto ma guardo direttamente il puffo questo qui direi che è puffo pittore uno dei miei preferiti perché tra l'altro per chi mi conosce da poco non lo sa ma io ho studiato come grafico pubblicitario quindi ho fatto anche quadri amo disegnare insomma quindi sto cercando di metterlo nella base però vabbè ve lo faccio vedere così tanto poi li metteremo con calma con Federico guardate che bello puffo pittore tutto sporco di vernice di tempere bellissimo mi piace un sacco questo qui questo me lo farò regalare sapete che a Federico gli do tutto ma uno me lo deve sempre regalare poi quando mi stufo glielo do a lui però uno me lo deve regalare ma questo credo lo terrò nel mio comodino perché mi rappresenta perché mi sento un po' artista in fondo in fondo un po' per il montaggio dei vlog un po' perché facevo i quadri come vi dicevo un po' perché sono comunque una creativa anche a scuola comunque facevamo creazioni di poster quelli che vedete in città non so se avete presente il classico poster pubblicitario ecco io dovrei fare quel lavoro lì potrei fare montaggio trailer comunque tutte queste cose creative quindi mi sento un po' pitrice volendo allora apriamo un po' questo vediamo un po' uh che carino questo qua sarebbe bello metterlo in cucina magari sopra la cappa buffo pasticcere questo qua devo chiedere a Federico se me lo fa mettere in cucina ma sicuramente sì perché lui è tanto buono, dolce e mi lascia sempre fare quello che voglio pur di vedermi felice Federico farebbe qualsiasi cosa è lo stesso io per lui guardate quanto è carino questo qua da mettere in cucina è troppo bello sembra un budino con la grassa al cioccolato e una ciliegina sopra o una fracola chi lo sa guardate che bello pomposo sto cappellino veramente veramente bellissimo poi ovviamente in cucina c'è la rivistina che ti spiega appunto con la storiella andiamo avanti qui abbiamo un puffo pompiere questo piaceva sicuramente tanto a Fede lo lascio a lui piacciono un sacco i pompieri tra l'altro qui nella nostra città vicino a un centro commerciale uno dei più grandi che abbiamo fuori praticamente hanno allestito una specie di struttura che si chiama appunto dedicata ai mestieri per i bambini dove all'interno c'è una specie di città con tutti i mestieri e lui era andato appunto l'avevo portato e aveva fatto appunto il pompiere quindi sicuramente questo qua proprio gli piacerà tantissimo cioè guardate i dettagli sono veramente ben fatti sono bellissimi ragazze cioè sapete che quando vedo una pecca ve lo dico ma ho sempre notato che le cose da collezione di Sbabam sono veramente ben ben fatte poi sto anche attenta a sentire perché c'è Alessandra che sta dormendo e non so tra quanto si sveglierà quindi mi devo spicciare o in caso verrà con me a fare il video qui abbiamo aspettate che non riesco a capire grande puffo dottore grande puffo dottore infatti ha lo stetoscopio guardate carinissimo anche questo grande puffo quanti ricordi grande puffo gargamella scrivetemi qua sotto se anche voi siete io sono dell'87 e se anche voi siete cresciute negli anni 90 con questi cartoni i puffi Terry e Maggie un sacco di cartoni Rossana mamma mia sto tornando bambina ragazze sto tornando bambina il che non fa mai male allora questo qui dovrebbe essere aspettate puffo 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 carpintiere molto carino anche questo aspettate che non riesco a tirarlo fuori guardate che carino troppo caruccio bellissimo con il suo cappellino a punta come il buffi troppo bello veramente carino lo so che sto dicendo carino 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 a raffica d'altronde ogni volta che faccio un video sbabam sono lì che vado in brodo di giugio perché mi sento ancora un po' bambina e quindi carino carino andiamo avanti con un altro puffo cosa ci sarà questa volta andiamo un po' no vabbè anche questo ci sta bene in cucina però non so se Fede me ne da due troppo carino anche questo ragazze uuu dai è il puffo chef fa la pizza ah no qua c'è la pasta con le polpette che tra l'altro è la pasta preferita di Ricky gli spaghetti con le polpette e una pizza che carino questo qua è bellissimo ne ho già due che vorrei mettere in cucina non so se Fede sarà così generoso vi aggiornerò in un prossimo vlog se poi mi ha fatto questa donazione andiamo avanti con il prossimo puffo qui abbiamo puffo puffo contadino penso si puffo contadino che carino con la sua paletta con la sua palettina eccola che si è svegliata mi sa che Ale verrà a fare il video con me l'ho portata di qua la mia fagottella così in caso piange riesco a prenderla allora questo ve l'ho già fatto vedere puffo contadino poi ce ne sono ancora quattro allora qui abbiamo puffo astronauta sicuramente sì troppo simpatico anche questo puffo astronauta gli viene giù anche la visierina carinissimo anche questo particolare molto bello puffo esploratore vediamo un po' con il suo binocolino e il suo zainetto molto molto bello anche questo qui molto ben fatto gli ultimi due ragazze vediamo cosa mi hanno mandato ah puffetta c'è puffetta quindi dovrebbe essere puffetta veterinaria infatti in mano infatti in mano sta praticamente ascoltando il cuoricino a una coccinella non so se lo vedete sta ascoltando il cuoricino a una coccinella e ha il simbolo della croce rossina molto bella anche questa qui poi ultima bustina e qui ultima bustina amore ho sfasciato tutto uh allora qui abbiamo come ultimo penso sia puffo meccanico dovrebbe essere puffo puffo meccanico sì con la cassetta degli attrezzi e il no spettate non so se è puffo meccanico sì 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 puffo meccanico eccolo qua è veramente carino ed è molto carino anche che ci sia una storiella in ogni libricino perché così appunto si può leggere con i vostri bambini eccoci qua volevamo le coccole della mamma eh è vero è vero eh sì eh sì tornando a noi vi faccio ancora vedere le magic extension allora intanto ho dimenticato di dirvi che i puffi li trovate in edicolo a 3,50 euro e invece ci sono le extension si chiamano magic extensions e ci sono di diversi stili quindi c'è miracle frozen caramella unicorn sirena e marshmallow sono veramente carine vedete appunto ci sono anche le due modelle le due ragazze e mi hanno mandato appunto diversi colori me ne hanno mandati quattro questo qua è bellissimo tra l'altro marshmallow guardate che bello e questo si può applicare ovviamente ai capelli quindi io avendo comunque i capelli belli lunghi sono sincera voglio fare una prova guardate che caramella che bello allora questa è caramella ve li faccio vedere tutti poi c'è miracle no vabbè ragazzi c'è guardatela risperazione la mano così eh questo è un po' più grande piacerebbero le extension colorate eh stellino comunque miracle è questo qui fatto così poi c'è unicorn fatto così e marshmallow ve l'ho già fatto vedere è così quindi sono questi quattro e questi quali trovate a 2,99 2,99 in edicola sempre con relativa rivista e adesso dobbiamo provarci l'extension sei pronta? sei pronta? amore adesso mi è dilettata attaccare l'extension e vi faccio vedere il risultato allora ho provato un extension devo dire che sono molto facili da applicare e dirò la verità vi dirò la verità non mi spiaccio con il rosa così potrei valutare di fare delle punte rosa perché mi piaccio con il rosa peccato che non dura niente come tinta quindi meglio l'extension ragazze compratevi queste sono veramente carine queste qua che ho provato sono le marshmallow quindi ho messo la rosa e la blu solo che l'ho messa un po' troppo sotto quindi non si vede però sono molto unicornosa adesso me le attacco tutte faccio uno scherzo a fede e tornare a casa con una mamma molto fashion io e le mie ciocche vi salutiamo spero che questo video in collaborazione con Sbabam che saluto ringrazio vi sia piaciuto e fatemi sapere se avete acquistato una di queste due cosine e cosa avete trovato insomma fatemi sapere un bacione grande e al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.